No, 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 oggi non faccio dichiarazione. Il segretario di Stato Vaticano al suo arrivo a Palazzo Borromeo si sottrae alla dialettica polemica di Mosca e non commenta il no arrivato ieri alla possibile mediazione della Santa Sede. Poi nel suo intervento all'evento promosso per richiamare lo spirito di Helsinki in un momento drammatico per il mondo, riafferma la volontà del Papa e della sua diplomazia di fare tutto il possibile a favore della pace tra Russia e Ucraina. Storici e politologi a confronto tra memoria e presente sulla conferenza che nel 1975 stabilì criteri per garantire cooperazione e sicurezza in Europa disinnescando le tensioni nel continente diviso dalla guerra fredda. Troppo è cambiato da allora ma il cardinale Parolin lancia l'idea di una nuova grande conferenza europea dedicata alla pace che coinvolga anche tutte le forze civili e movimenti pacifisti. Abbiamo bisogno di coraggio, di scommettere sulla pace e non sull'inedruttabilità della guerra, sul dialogo e sulla cooperazione e non sulle minacce e sulle divisioni. Abbiamo bisogno di una de-escalation militare verbale per ritrovare il volto dell'altro perché ogni guerra, diceva il venerabile Monsignor Tonino Bello, trova la sua radice nella dissolvenza dei volti. Il disarmo come unica risposta adeguata e risolutiva e poi concretezza le lacrime del Papa ai piedi dell'Immacolata come antidoto all'indifferenza, alla barbarie della guerra. Non restiamo sordi al grido dei popoli che chiedono pace, non guerra, pane, non armi, cure, non aggressione, giustizia, non sfruttamento economico, energie pulite e rinnovabili per lo sviluppo, non energia atomica per ordigni distruttivi che negano la possibilità di futuro per la nostra casa comune. Coraggio, energie e risorse, chiede Parolin, per promuovere il negoziato. Un ruolo particolare potrà svolgerlo l'Italia e Assisi si candida ad ospitare la nuova Helsinki. Grazie. Grazie.